Durante la più recente puntata di, Grande Fratello, trasmessa il 28 settembre 2024, Beatrice Luzzi, ha scatenato una serie di polemiche. L'opinionista ha utilizzato il palcoscenico del reality show di Canale 5, per un gesto che molti hanno ritenuto fuori luogo. Le condoglianze anticipate per un evento familiare doloroso. Beatrice Luzzi, ex concorrente e ora opinionista al, Grande Fratello, è stata al centro delle attenzioni per le sue parole dirette alla ex suocera durante il live del programma. Vorrei salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando, purtroppo è giunta alle sue ultime ore e, non potendo esserci, desidero fare qui il mio ultimo saluto. Ciao Laura, questa dichiarazione, intesa come un addio anticipato, ha suscitato molte critiche e un immediato clamore sui social network. L'intervento di Luzzi ha sollevato un ampio dibattito tra i telespettatori e gli utenti dei social media, molti dei quali hanno espresso disappunto per l'opportunità e il tono delle sue parole. Commenti che vanno dalla sorpresa alla disapprovazione totale hanno invaso le piattaforme online, con alcune persone che hanno etichettato il comportamento dell'opinionista come inappropriato e insensibile. Le parole di Beatrice Luzzi hanno non solo polarizzato l'opinione pubblica, ma hanno anche messo in luce la difficoltà di gestire la personalità pubblica e le emozioni private in un format televisivo così esposto come il, Grande Fratello. Non è la prima volta che l'opinionista si trova a dover navigare tra le critiche, ma questo episodio ha particolarmente toccato la sensibilità del pubblico e degli addetti ai lavori. Questo incidente evidenzia come la partecipazione a un reality show possa avere impatti significativi sulla vita personale dei suoi protagonisti. La linea tra vita privata e pubblica si assottiglia, e ogni azione o parola può essere amplificata, generando reazioni a volte imprevedibili. Un insegnamento per il futuro. L'episodio serve come un duro promemoria sia per i partecipanti che per i produttori di reality show sulle responsabilità di gestire temi delicati in modo rispettoso e appropriato, specialmente quando le telecamere sono sempre accese. La controversia intorno a Beatrice Luzzi apre un dialogo più ampio sulla responsabilità dei media nello trattare tematiche personali e dolorose.